Buongiorno, dopo un breve confronto intercorso tra me e il dottor Chiarelli circa la tematica emergenziale che sta affliggendo il nostro paese relativa al famigerato coronavirus, meglio definibile come Covid-19, ho ritenuto opportuno ma anche necessario affrontare questo tipo di situazione sotto il profilo normativo del trattamento dei dati delle persone fisiche, non solo perché ciò è di estrema attualità ma anche perché le autorità competenti delle istituzioni si trovano in questi giorni a dover trattare una serie importante e consistente in termini quantitativi di dati particolari afferenti alle persone fisiche che quindi meriterebbero in generale una protezione speciale, ma anche perché questo tipo di trattamento comporta un elevato grado di delicatezza e anche potenziali conseguenze negative nel caso di cattivo trattamento. Si potrebbero fare gli esempi relativi all'isolamento oppure a potenziali situazioni di discriminazione. oltretutto questa tematica ci mette nelle condizioni di dover mettere a confronto due beni giuridici fondamentali. Da una lato il diritto alla salute e dall'altro il diritto delle persone a far sì che i loro dati siano trattati in adeguata protezione e sicurezza anche da parte delle istituzioni e delle autorità competenti. Ma non solo, questo tema ci costringe anche ad affrontare i limiti e il perimetro di applicabilità della normativa attinente al trattamento dei dati personali e anche ad interrogarci se effettivamente in questa situazione di emergenza nazionale questa normativa sia davvero effettivamente applicabile. Io nel corso di questo video commento vi ho indicato estrapolandole alcune disposizioni sia di tipo nazionale che di tipo sovranazionale, a volte ve le ho riportate integralmente, a volte soltanto in stralcio. Bene, partiamo dall'articolo 32 della Costituzione italiana che esancisce appunto come la Repubblica tutela salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse anche della collettività, precisando che questa è l'unica norma costituzionale dove è utilizzato l'aggettivo fondamentale. L'aggettivo fondamentale che ritroviamo anche in un'altra normativa a carattere sovranazionale piuttosto nota, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove in particolare all'articolo 8 è sancito che ogni individuo ha il diritto, quindi fondamentale, alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Quando ci troviamo in una situazione di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, viene in mente subito, in particolare con riferimento al Regolamento Generale 679-2016, conosciuto in acronimo come GDPR, l'articolo 9, perché l'articolo 9 considera i dati di natura cosiddetta particolare, tra cui spiccano soprattutto quelli attenenti alla salute. Salute da intendersi non in senso stretto, cioè relativa a quei dati clinici, medici, biomedici, genetici delle persone fisiche, ma salute intesa in senso ampio. Quindi, per fare un esempio, anche il trattamento di dati, diciamo così, ordinari relativi ad una persona che si trovi a riesedere o dimorare in una cosiddetta zona rossa, dove permane un focolaio virale particolarmente attivo, dovrebbe essere considerato come dato appartenente alle categorie particolari. Ebbene, questo articolo 9 pone un divieto generale al trattamento di questo tipo di dati ed è un divieto molto molto pregnante, tant'è vero che, ad esempio, il paragrafo 2 lettera A dello stesso precetta anche che, nel caso in cui vi sia il consenso dell'interessato, in certi determinati casi, questo divieto non potrebbe essere revocato. Però, nel caso di situazioni emergenziali come quelle che ci riguardano in questi giorni, invece questo divieto è destinato a cadere, cade. Il trattamento è necessario, se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali, ad esempio, principalmente la protezione da gravi minacce per la salute a carattere trasfrontaliero. E il coronavirus, con tutte le conseguenze che lo stesso comporta, rientra in pieno in questa ipotesi che permette di far cadere questo divieto generale al trattamento dei dati in natura particolare. Per meglio capire che cosa si debba intendere come salute, si può ricorrere al considerando 24 della direttiva 680 2016, che vedremo ha una rilevanza anche nell'ambito dell'argomento che stiamo trattando. Il considerando 24 di questa direttiva, che è stata recepita in Italia, lo sappiamo, ci ha fatto alcuni video commenti al proposito, dal DLGS 51 2018, precisa che nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardando lo stato di salute dell'interessato che rilevano informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale, passata, presente o futura dallo stesso. Vengono proposti alcuni esempi, le informazioni raccolte durante la registrazione per ricevere servizi sanitari, un numero, un simbolo, un elemento specifico attribuito a una persona per identificarla, le informazioni risultate da esami e controlli, qualsiasi altra informazioni riguardano una malattia, una disabilità, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici e lo stato biometrico. Questo ci fa capire che non è necessaria una situazione per cui un soggetto tratti dei dati direttamente, diciamo così, strettamente medici per aversi il dato particolare, ma il dato particolare potrebbe avere come propria caratterizzazione anche una situazione più blanda, meno immediatamente rientrante nell'ambito del concetto di dato clinico o biomedico. L'articolo 17, tornando al regolamento generale, nel caso in cui ci si trova in presenza di situazioni emergenziali come quelle attuali, addirittura inibisce uno dei diritti fondamentali dell'interessato, cioè il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati e questa venuta meno di questo diritto è previsto proprio per i casi in cui vi siano grave minacce che coinvolgono gli interessi pubblici e che possono compromettere il settore della sanità pubblica. Il considerando numero 46 di GPR va nello stesso tempo, va nello che possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico, sia agli interessi vitali dell'interessato, se il trattamento è necessario appunto per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione e quindi ancora una volta vediamo che anche il considerando numero 46 del regolamento generale ha previsto l'ipotesi di diffusione di malattie virali. Così il considerando numero 52 del GPR prevede che venga meno il divieto di trattare in generale le categorie particolari di dati laddove sussista l'interesse pubblico e questo è un caso in cui sussista l'interesse pubblico, vi siano finalità di sicurezza sanitaria, è ovvio che queste finalità sussistano in pieno e vi siano necessità di controllo e di allerta per la prevenzione e controllo di malattie trasmessibili. Quindi un ulteriore considerando che considera, scusate il gioco di parole, la situazione grave che attualmente si sta verificando nel nostro paese. Così anche il considerando numero 53 con riferimento particolare alla necessità di continuare, di dare continuità all'assistenza sanitaria rispetto alle finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta. Anche con riferimento a una importantissima base legittimante per poter trattare categorie particolari di dati, ossia il consenso dell'interessato, il Regolamento generale sancisce che appunto laddove vi siano delle esigenze attinenti alla sicurezza sanitaria, a maggior ragione sia di tipo nazionale, il consenso dell'interessato possa essere anche pretermesso, non occorre più e quindi si può essere sottoposti a misure di isolamento e di controllo che ovviamente comportano il trattamento di dati in natura particolare indipendentemente dall'acquisizione di un consenso esplicito da parte dell'interessato. Anche considerando il numero 73 del Regolamento generale, ci viene a spiegare che sia il diritto dell'Unione che degli Stati membri può imporre delle limitazioni ai diritti degli interessati e comprimere gli obblighi dei titolari, quando ciò sia necessario per questioni relative alla sicurezza pubblica, poi vedremo anche cosa si deve intendere per sicurezza pubblica, ovvero la salvaguardia contro la prevenzione di minacce alla stessa, compresa la sanità pubblica. Ecco che anche nel regolamento viene introdotto il concetto che comporta delle conseguenze di tipo applicativo della sicurezza pubblica riferita anche ai servizi pubblici essenziali che sono anche relativi alla sanità pubblica, quindi un pronto soccorso è un servizio pubblico essenziale, rappresenta l'esecuzione di un servizio pubblico essenziale, quindi il fatto di pregiudicare la funzionalità di un pronto soccorso comporta anche che venga pregiudicata la funzionalità di un servizio pubblico essenziale. Bene, dobbiamo occuparci dell'ambito di applicazione materiale del regolamento generale. Il regolamento generale, in base all'articolo 2, paragrafo 2, non deve essere applicato per attività che non rientrano nell'ambito applicazione del diritto dell'Unione, quali ad esempio le questioni attinenti alla sicurezza nazionale, oltre che alla politica estera. Quindi quando stiamo in presenza di questioni che compromettono, che riguardano la sicurezza nazionale, il regolamento generale non è applicabile. Oltretutto il regolamento generale non è altresì applicabile quando vi siano attività svolte dalle autorità competenti a fine di salvaguarda e prevenzione contro minaccia alla sicurezza pubblica. Questa norma quindi che cosa va a evocare? Va a evocare in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, relativo anche al decreto legislativo 51 2018 che in Italia ha dato esecuzione alla direttiva 680 2016. E questo ci fa capire che quando siamo in presenza di situazioni attinenti alla sicurezza nazionale, né la normativa di cui il regolamento generale va applicata, né la normativa attenente alla direttiva 680 2016 recepita in Italia dalla norma nazionale, va applicata. E invece quando siamo in presenza di minacce serie alla sicurezza pubblica, né intendersi anche quale servizio pubblico essenziale, non dovrà applicarsi più il regolamento generale, ma dovrà applicarsi il decreto legislativo 51 2018. Ma che cosa si intende per sicurezza? E che cosa si intende per sicurezza pubblica e per sicurezza nazionale? Quando vi è una e quando vi è l'altra. Secondo la Corte Costituzionale, sentenza numero 290 2001, per sicurezza dei cittadini devono intendersi tutte le misure preventive, repressive e dirette al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, ossia tutte quelle funzioni primeramente dirette a tutelare beni fondamentali. Torno al concetto del bene fondamentale, quale è l'integrità fisica? E quindi per la Corte Costituzionale siamo in presenza di sicurezza che potrebbe essere sia pubblica che pubblica nazionale quando si debbono tutelare i diritti fondamentali delle persone fisiche, quale appunto l'integrità fisica delle stesse. Secondo il piano pandemico italiano aggiornato in base a quanto è comunicato l'Organismo Mondiale della Sanità nel 2016, una pandemia influenzale costituisce una minaccia per la sicurezza dello Stato e quindi una situazione come quella che ha comportato il coronavirus costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale e quindi dovrebbe far venire meno l'applicabilità sia della normativa del GPR sia l'applicabilità della normativa di cui alla direttiva 680 2016 recepita dal decreto legislativo 51.18 relativo alla tutela contro minacce rispetto a minacce alla sicurezza pubblica. Allora sicurezza pubblica, vediamo gli articoli 1 e 2 della direttiva 680 2016, allora che poi recepita praticamente nello stesso modo dalla DLGS 51.18 in Italia. La direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle autorità competenti, no? Mi ha visto che cosa si intende per autorità competente, in generale tutte le istituzioni che hanno il compito di attuare finalità di prevenzione, accertamento, perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali, ma anche tutte quelle attività che possono essere a tutela salvaguardia della sicurezza pubblica contro minacce che la potrebbero pregiudicare e mettere a rischio e per sicurezza pubblica l'abbiamo già visto, lo ripetiamo, si intendo anche servizi pubblici essenziali, quindi tutti quei servizi sanitari che vanno dai servizi di guardia medica, ai servizi di pronto soccorso, ai servizi generali, ospedalieri o specifici, che normalmente uno Stato deve assicurare. L'articolo 2 dice che la direttiva non si applica ai trattamenti di dati personali effettuate per attività che non rientrano nell'ambito applicazione del diritto UE, quindi sicurezza nazionale, quindi si dice da un lato se siamo in presenza soltanto di problematiche di sicurezza pubblica non mi devi più applicare tu autorità completente il regolamento generale, ma mi devi applicare la norma di ricepimento dalla direttiva 680 2016, però nel momento in cui ci dovessimo trovare in situazioni che riguardano la tutela della sicurezza nazionale non mi devi applicare né una né l'altro, questa è una differenza importante. Il decreto legislativo 51-2018, che io peraltro ho già commentato in altri miei video, dove io più volte ho messo in evidenza il fatto che non è la sua portata applicativa sotto profilo materiale limitata come si potrebbe immaginare, precisa che questo decreto che ha ricepito la direttiva 680 non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati nello svolgimento di attività concedente la sicurezza nazionale, ovvero della difesa nazionale. Quindi abbiamo visto che sia la Corte Costituzionale che la comunicazione che è stata fatta relativamente alle pandemie per l'anno 2016 dall'Italia all'Organismo Mondiale della Sanità fanno rientrare questo tipo di situazioni emergenziali nell'ambito di concetto di sicurezza nazionale e quindi non dovrebbe essere obbligatorio applicare, verrebbe meno, l'obbligo di applicare la normativa attenente al trattamento dei dati personali. Oltretutto l'articolo 24 del decreto legislativo 51 2018 pone anche l'obbligo di consultazione preventiva. Il comma 2 in particolare stabilisce che il garante è consultato nel corso dell'esame di un progetto di legge o di uno schema di decreto legislativo, ovvero di uno schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, quando? Quando questo è suscettibile di rilevare, di impattare ai fini di tutte le garanzie dei diritti fondamentali relativi al trattamento dei dati delle persone fisiche, quindi del diritto alla protezione dei dati personali per come è sancito anche dall'articolo 8 e dall'articolo 16. L'articolo 8 è la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'articolo 16 sul funzionamento dell'Unione, sul trattato del funzionamento dell'Unione. Il comma 3 stabilisce anche che il garante può stabilire un elenco dei trattamenti soggetti a consultazione preventiva, quindi il decreto legislativo 51 che recepisce la direttiva 680 prevede questo obbligo di consultazione preventiva nel caso di progetti di legge, di decreto legislativo o di decreto. Ecco, andando a leggere il decreto legge del 23 febbraio 2020 numero 6, questo tipo di consultazione preventiva non è riscontrabile perché nelle premesse dello stesso decreto non si riscontra alcun tipo di consultazione, quindi non si sa se questa consultazione è intercorsa oppure no e quindi probabilmente l'interpretazione che è stata compiuta da parte del governo, del ministro e dei ministeri competenti è stato quello di ritenere la situazione come apparentemente è una situazione che compromette la sicurezza nazionale. Anche l'articolo 36 del regolamento generale prevede questo obbligo di consultazione preventiva, però sembrerebbe più limitato perché gli stati consultano l'autorità di controllo in base al paragrafo 4 dell'articolo 36 direttamente applicabile durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto. Quindi non si menziona più la facoltà legislativa da decretazione d'urgenza governativa, ma si menziona la proposta di atti legislativi che passano dal Parlamento nazionale. Vediamo il parere del garante per l'emergenza virale. Il garante ha già espresso un proprio parere rispetto a ciò che allo stesso è stato chiesto da parte del Dipartimento della Protezione Civile che giustamente ha sottoposto al garante una bozza di ordinanza riferita ai primi interventi urgenti in materia di protezione civile rispetto al diffondersi del virus Covid-19. Il garante in questo caso richiama il regolamento generale nelle proprie premesse, richiama il Decreto Legislativo Nazionale per come è stato novellato dal Decreto Legislativo 101 del 2018, quindi il Codice Nazionale in Materia di Protezione dei Dati di LGS 196-2003, ma non richiama il Decreto Legislativo 51-2018, quello che ha dato applicazione in Italia alla Direttiva 680. Il parere del garante oltretutto prende in considerazione i dati personali relativi non soltanto all'articolo 9 che abbiamo trattato, che si occupa appunto dei dati particolari attivati alla salute passata presente future delle persone fisiche, ma richiama anche l'articolo 10 dello stesso DCPA, cioè l'articolo che riguarda il trattamento dei dati personali relativi a condanni penali e reati e quindi ci fa capire che prende in considerazione anche situazioni che proprio per l'emergenzialità che si sta verificando potrebbero comportare situazioni di trattamento di dati di reato. Comunque, nell'ambito della sua valutazione, il garante non prescinde da tutti i principi applicabili e infatti richiama anche l'articolo 5 del DCPA, che è da considerare un po' la bussola di tutto il regolamento generale, perché in esso sono contenuti tutti i principi che vanno rispettati nell'ambito di ogni corretto trattamento e oltretutto il garante autorizza i soggetti operanti nel servizio nazionale di conferire l'autorizzazione al trattamento dei dati ex articolo 2410 del codice anche con modalità semplificate anche orali. In realtà l'articolo 2410 che si occupa, anche in questo caso ho già fatto un videocommento, si occupa delle attribuzioni di funzioni compite ai soggetti cosiddetti designati da parte del titolare, già prevedeva la facoltà del titolare o del suo responsabile di individuare le modalità più opportune per autorizzare il trattamento dei dati di persone che operano sotto la propria autorità diretta. Quindi in sostanza il garante ha dato paverere favorevole alla protezione civile, ha richiamato alcuni principi generali del GDPR e ha autorizzato il titolare a sua volta disegnare delle persone che operano sotto la sua autorità al controllo anche con modalità agevolate anche orali per poter trattare tutti quei dati che consentono di porre in essere tutte le misure idonee per poter svolgere i compiti di protezione civile. Da evidenziare che il garante ha anche sancito che alla scadenza del termine dello stato di emergenza siano però adottate da parte di tutte le amministrazioni coinvolte negli interventi di protezione civile misure idonee a ricondurre trattamenti di dati effettuati durante l'emergenza nell'ambito delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali. Ciò a dire attenzione in questo momento stiamo vivendo una situazione emergenziale quindi possono accadere tutta una serie di precauzioni. Cercate nei limiti del possibile di osservare tutti i principi contenuti ad esempio nell'articolo 5 del GDPR però una volta avvenuta meno questo tipo di situazione emergenziale dovrete ricondurre il trattamento nell'ambito delle regole che lo disciplinano sia a livello soranazionale che a livello nazionale e questo è un passaggio a mio avviso molto importante che si ritrova nel parere che il garante ha rilasciato alla protezione civile. Il decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020, lo abbiamo già visto in precedenza, misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da covid-19 è stato emanato apparentemente senza consultazione preventiva del garante e questo è quindi un sintomo del fatto che si debba considerare la situazione provocata dal virus che stiamo commentando come una situazione che comporta una minaccia alla sicurezza nazionale e non semplicemente pubblica e quindi probabilmente il governo ha agito non so fino a che punto consapevolmente in applicazione della normativa che abbiamo individuato e che non rende applicabile né il regolamento generale 679 2016 né la norma nazionale di ricepimento della direttiva 680 2016 il decreto 51 2018 in caso di minacce alla sicurezza nazionale. Bene, ho terminato questo breve video commento che credo abbia anche così incoraggiato, posto alcune riflessioni che si possono compiere e vi saluto ringraziandovi per l'attenzione.